Una nuova numerazione civica appolla con la consegna in questi giorni delle nuove targhette che identificheranno quindi case, accessi e locali. L'azione messa in campo dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Loviso è stata voluta per rispondere anche alle esigenze della comunità con numerosi locali a cui non risultava attribuito un numero civico e pertanto si potevano riscontrare problemi anche nel recapito della corrispondenza. La fase finale dell'azione di riordino della numerazione civica appolla ha preso il via nella giornata di ieri con la consegna agli incaricati delle nuove targhette che saranno apposte sulle abitazioni per segnalare il numero civico corrispondente. Il sindaco Loviso nella giornata di ieri attraverso una nota stampa pubblicata anche sul sito istituzionale dell'ente ha voluto portare a conoscenza dei cittadini quali sono gli interventi che saranno messi in atto in questi giorni. Dopo aver effettuato un lavoro che ha impegnato gli addetti nel riordino della toponomastica stradale con aggiornamento della numerazione civica, operazione particolarmente complessa, si è passate alla revisione complessiva della numerazione civica, aggiornata con i numeri civici mancanti. Da ieri si procede con l'installazione delle nuove targhette che riguarderà tutte le unità immobiliari con ingresso indipendente, che siano abitazioni, uffici, attività commerciali, laboratori, garage ecc. Ad eseguire i lavori di installazione la ditta gestioni locali SRL incaricata dal comune di Polla. I lavori prevedono anche la rimozione dei vecchi numeri civici e le targhette saranno apposte a due metri dal suolo da personale riconoscibile attraverso l'uso di pettorine e di tesserino rilasciato dal comune e accompagnato da personale della Polizia Municipale. Siamo felici, dichiara il sindaco Massimo Loviso, di mettere mano alla numerazione civica, dando un ordine e provvedendo alla rimozione dei vecchi numeri. Ciò per dare un miglior servizio ed un migliore aspetto estetico. Dall'amministrazione fanno sapere che il personale incaricato non è autorizzato a richiedere o riscuotere somme di denaro e che gli uffici comunali sono a disposizione per ogni utile informazione o chiarimento oppure per raccogliere istanze relative a situazioni particolari. Grazie 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 Grazie.